In 60 anni di esperienza, l'Argiolas Formaggi ha unito l'antica tradizione dell'arte casearia della Sardegna con le moderne tecnologie. Un laboratorio di analisi all'avanguardia garantisce inoltre la salubrità e l'elevata qualità dei formaggi, ottenuti esclusivamente con latte sardo. Da un buon latte si fa un buon formaggio. Molta attività è stata fatta dall'Argiolas Formaggi nel selezionare i fornitori della materia prima e sensibilizzarli negli anni all'ottenimento di un latte sempre più rispondente anche alle normative comunitarie che impongono determinate caratteristiche per l'ottenimento delle diverse tipologie di formaggi. Nel 1997 c'è stata la prima certificazione ed è stata anche la prima azienda casearia a certificarsi secondo le norme ISO. Sino ad oggi abbiamo fatto un'evoluzione passando anche attraverso le evoluzioni delle norme sino ad avere ad oggi la certificazione 22.000 che è la certificazione per i sistemi di gestione qualità relativi alla sicurezza alimentare. Attraverso questa certificazione diamo più evidenza verso l'esterno di ciò che facciamo per mantenere i nostri prodotti salubri. La qualità per l'Argiolas Formaggi è a 360 gradi rivolta sia a quella che è il prodotto ma anche a come questo prodotto viene ottenuto e quale può essere il suo impatto ambientale proiettandosi anche su prossime richieste che saranno quelle del mercato che anche sull'ambiente stanno iniziando a avere particolare attenzione.